La pandemia ha fatto esplodere una situazione che era già un aumento di urgenze di patologia psichiatrica anche nei bambini più piccoli, anche sotto i 14 anni, anche sotto i 12 anni. Quindi situazioni che conoscevamo ma che raramente vedevamo in quei bambini, adesso le vediamo anche bambini molto piccoli. Abbiamo avuto un aumento più del 50% di patologia psichiatrica in questa fascia della popolazione. Quindi è un qualcosa che ha aumentato in maniera esplosiva con la situazione di pandemia lockdown ma che purtroppo siamo ancora in quella situazione che è come se avessimo raggiunto un livello di stabilità e quindi è una sorta di emergenza ancora non terminata. I disturbi della condotta alimentare per esempio, principalmente nelle ragazzine, ragazzine anche molto giovani, disturbi dell'umore, sino appunto alle cose più grave, le diazioni sicilitarie, il tentativo di farsi male, l'autolesionismo, disturbi del comportamento, aggressività. Tutte queste cose che di solito era dell'adolescente un pochino più grande, ora le vediamo nei 12 anni. Quello che posso dire ai genitori è di non aver paura di affrontare l'argomento, di accorgersi che c'è qualcosa che sta succedendo, perché prima affrontiamo l'argomento più è facile che noi riusciamo a bloccarne l'evoluzione verso situazioni veramente negative. Quindi non aver paura perché c'è uno stigma ancora, una paura spesso da parte dei genitori di affrontare l'argomento malattia psichiatrica. Invece è una cosa che va affrontata e si può per fortuna anche risolvere o controbattere.